L'anno scorso in Italia sono morte più di 3.000 persone a causa degli incidenti stradali. È come se un paese grande come Moscufo, Balsorano, Morro d'Oro, Casa Rincontrada scomparisse giorno dopo giorno e diventasse un paese fantasma. In Abruzzo, sempre nel 2022, sono morte 59 persone. Le statistiche si incrociano alle storie personali. Ma perché gli incidenti restano così tanti? Ne parliamo a 31 minuti, giovedì ore 22.30 su Rete 8. Suck